Però a questo punto parlare di schemi è davvero assardato. Contestazione nei confronti del direttore generale della Roma, Franco Baldini. Eh sì, perché quando succedono queste cose nel calcio, poi alla fine le ripercussioni in campo ci sono. Ma è stata una settimana davvero caschiana per la Roma. E dall'altra parte risponde la curva nord con Sabatini. Esattamente, perché quando Sabatini fa quella conferenza stampa dicendo che ci sono rapporti cancerogeni tra il tecnico e i giocatori, che si pensa a un eventuale sonero, beh a questo punto se hai deciso devi sonerarlo, è inutile proseguire. Ma di fatto l'ho sonerato in diretta. Esattamente, ma allora perché tenero? Che cosa si sperava? Una squadra scollata, non c'è più il... ecco lei, questi sono contro Sabatini. Non c'è più il concetto di squadra, neanche un giocatore come Totti riesce a mettere insieme questi giocatori. Pare che negli allenamenti ci siano addirittura situazioni di insubordinazione da parte dei giocatori. Qua si parla tanto del progetto americano e del progetto a stelle strisce, però la proprietà americana viene ogni tanto a farsi la cita romana sul modello di Gregory Peck in vacanze romane e ogni tanto si fa vedere... Con l'obiettivo poi di costruire lo stadio... Ecco, forse siamo arrivati al punto focale, ma il calcio è un'altra cosa ragazzi. Roma è una piazza importante, è una società talmente importante, è vero che si è affidata a due dirigenti esperti come Baldini e Sabatini, però la proprietà si deve sentire. L'anno scorso c'era Thomas Di Benedetto, adesso c'è James Pallotta, però si occupano d'altro, vivono in un'altra realtà. Insomma, è come se un imprenditore partisse dall'Italia per rilevare una squadra di football americano oppure di NBA, insomma, suonerebbe un po' strano. E questo è quello che sta succedendo alla Roma. E adesso, al di là delle immagini che si vedono, forse la tifoseria se ne sta una po' accorgendo. È chiaro che i referenti italiani sono Baldini e Sabatini, sono il tecnico, sono i giocatori, sono quelli che vengono investiti dalla contestazione, ma la proprietà a questo punto dov'è?